Per la prima volta vedremo dei bambini nel weekend. Sono pronta all'adozione. Adottare una bambina già grande non è una decisione facile. Mi chiamo Esther. Perché non vai alla festa? Non vedo nessuna ragione per andarci. Io sono un po' diversa. Non c'è niente di male nell'essere diversi. È una bambina davvero straordinaria. Molto matura per la sua età. Avete stabilito un buon legame. È la vostra casa. È anche tua adesso. Sei parte della famiglia quanto Daniel e Max. È un piacere conoscerti. È la nuova compagna e vorrei che la faceste sentire la benvenuta. Un messaggio di Alli Hobby riguole il suo vestito. Esther, perché hai chiuso? Qualcosa spinge Esther a sentirsi così. Esther potrebbe avere qualcosa che non va. Dobbiamo capire di che si tratta. Sembra che i guai la inseguano. Che genere di guai? Sono dottor Varava. Chiamo dal Sarne Institute. Non capisco. Come fa a risultare che non è mai stata lì? Deve esserci una spiegazione. All'orfanotronfio non sanno nemmeno chi sia. Non credo di piacere molto alla mamma. Mamma! 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 Perché era nel vostro ospedale? Mio Dio. Io ti amo, papà. Non ce l'ho fatta più! No! Ho una sorpresa per te, mamma. Che state facendo? Oddio! Che cosa hai fatto? E' mio! E' mio! Esther? Esther? Grazie!